Per comprendere le ragioni storiche profonde della conquista macedone dell'impero persiano bisogna risalire un po' indietro nel tempo. Precisamente al tempo della seconda guerra persiana, quando i greci alla fine trionfarono contro l'aggressione di Serse con le celebri di battaglie di Salamina e di Platea nel 480 e 79 a.C. La Persia però rientra in gioco con la guerra del Peloponneso quando Sparta nell'ultima fase della guerra chiede il suo sostegno economico per condurre la guerra contro Atene e la vittoria di Sparta è in parte una vittoria del denaro persiano. Ecco dunque che all'inizio del IV secolo la Persia, parallelamente all'affermarsi dell'egemonia spartana, diventa una protagonista della politica greca. Allora si comprende come proprio in questo periodo nasca un movimento di opinione in Grecia il cui portavoce principale è un retore e pubblicista atenese, Isocrate, il quale propugna una azione derivata dai greci contro i persiani con due finalità, vendicarsi degli affronti subiti durante l'aggressione di Serse e nello stesso tempo liberare i greci d'Asia sotto il dominio persiano. Accanto a queste motivazioni di carattere ideale e con un valore propagandistico c'erano anche delle ragioni profonde di carattere economico e sociale. Ecco che questa pubblicistica greca Isocrate cerca di rivolgersi a qualcuno che nel mondo greco prenda il comando di questa iniziativa contro la Persia e alla fine l'attenzione cade su Filippo II di Macedonia che era diventato re nel 359 e in pochi anni aveva trasformato questa monarchia arretrata sul piano economico e anche politico in una grande potenza ampliandone i confini e arrivando anche a entrare nel vivo della politica greca nel 346 quando Isocrate scrive un discorso intitolato Filippo in cui invita il sovrano macedona a mettersi a capo di questo movimento di questa iniziativa contro la Persia. Forse il 346 può considerarsi una situazione prematura ma in realtà l'invito fu alla fine raccolto da Filippo II nel 337. Nel IV secolo avanti Cristo Sparta e Atene sono due potenze logorate da decenni di lotte per la supremazia nella penisola greca. La guerra del Peloponneso si è conclusa nel 404 e ha visto la caduta di Atene che ha dovuto subire la distruzione della flotta. Anche Sparta a seguito delle continue lotte si è indebolita e la sua superiorità politica e militare comincia a vacillare. I suoi avversari sono sempre più numerosi non solo le città elleniche stanche della sua egemonia ma anche l'impero persiano che interviene sempre più spesso nelle lotte della penisola greca. In questo contesto emerge la potenza di Tebe e soprattutto del suo esercito che costituisce il suo vero punto di forza. Condotti da valorosi generali i Tebani si impongono sulle altre polis riuscendo persino a sconfiggere Sparta nel 371. A causa della loro fragilità politica il loro predominio avrà però breve durata e ben presto la Grecia sarà percorsa da nuovi venti di guerra. A decidere il destino della penisola sarà la Macedonia, un piccolo stato finora ai margini delle lotte di potere. In pochi anni sotto la guida di Filippo II diventerà il regno egemone della Grecia e una delle grandi potenze del Mediterraneo. Intanto era successo qualcosa di importante in Grecia perché nel 338 con la battaglia di Cheronea Filippo II aveva affermato la sua egemonia sulle città greche, aveva fondato nel 337 la Lega di Corinto che riuniva la maggior parte delle città greche eccetto Sparta, fra l'altro con una motivazione, con una finalità esplicita che era proprio quella di condurre la guerra contro la Persia. Nel 336 le prime avanguardie dell'esercito macedone si trasferiscono in Asia minore, costituiscono una sorta di testa di ponte per l'esercito che dovrà seguire a breve, ma succede nel 336 l'imponderabile. Per una di quelle coincidenze di cui la storia è piena, coloro che avrebbero dovuto affrontarsi in questo scontro fra la Macedonia e la Persia vengono entrambi a scomparire. Il re persiano Arsete viene assassinato dal suo gran visir per essere sostituito da Dario III, più o meno nello stesso periodo ecco che Filippo viene colpito a morte da un uomo che faceva parte della sua guardia del corpo, un certo Pausania. Nel momento della morte di Filippo, Alessandro aveva vent'anni, era nato nel 356, figlio di Filippo II e della principessa epidotica Olimpiade. È molto importante questo aspetto perché per parte di padre, attraverso la dinastia degli Argea di cui apparteneva Filippo II, Alessandro si sentiva discendente di Eracle. Attraverso la madre, Olimpiade, si sentiva discendente di Achille perché la dinastia epilotica pretendeva di discendere dal figlio di Achille, Neottolemo. La cosa è molto importante perché Alessandro crede fermamente nel valore di questa ascendenza eroica e in parte le sue imprese si spiegano anche come un tentativo di emulazione dei due grandi eroi, Eracle e Achille, che si pongono come capostipiti delle famiglie paterna e materna. La sua educazione fisica e suo intervento fu affidato ad un maestro rigoroso, un amico di Olimpiade, Leonida, ma passò anche alcuni anni di apprendistato presso Aristotele che era stato chiamato da Filippo a sovrintendere all'educazione intellettuale di Alessandro. Ma diciamo la fanciullezza di Alessandro fu breve perché già all'età di 16 anni dovette in qualche modo supplire all'assenza del padre facendo in qualche modo da reggente del re. Molto presto avrebbe guidato lui stesso una spedizione in traccia e avrebbe partecipato poi nel 338 insieme al padre alla battaglia di Cheronea dove proprio l'ala dell'esercito guidato da Alessandro avrebbe sconfitto il grosso dell'esercito greco. Nel 336 dunque quando muore Filippo Alessandro che è il primo figlio maschio ha senz'altro un diritto di successione ben consolidato ma per evitare rischi e come era successo spesso nella storia della casata macedone egli elimina o fa allontanare tutti i possibili pretendenti alla successione e lo stesso fa la madre dell'Olimpiade togliendo di mezzo i piccolissimi figli di Cleopatra l'ultima moglie di Filippo II. Dunque Alessandro raccoglie le realità di Filippo anche per quanto riguarda la spedizione in Asia minore solo che questa iniziativa è bloccata da alcune contingenze ci sono popolazioni tragiche e illidiche che premono nei confini settentrionali insomma c'è bisogno di condurre delle azioni di guerra in cui Alessandro dimostra la sua terribile efficienza di generale e inoltre a un certo punto si diffondono notizie sulla morte di Alessandro in una di queste spedizioni e la Grecia ne approfitta per ribellarsi a alcune città della Grecia, in particolare Tebe. Ebbene Alessandro risponde a questa sfida con un movimento di una rapidità e di una spietatezza esemplare. In pochissimi giorni arriva dai lontani confini settentrionali nel cuore della Grecia, mette sotto assedio Tebe, siamo nel 335, la conquista, la rata è al suolo, fa uccidere migliaia di cittadini tebani e in pratica in pochissimi giorni Alessandro elimina una delle città più cariche di storia e di prestigio della Grecia e questo serve di lezione agli altri greci per dire attenzione il fatto che io sia giovane e abbia dovuto succedere a mio padre in quelle condizioni non significa che il regno di Macedonia si possa concedere delle debolezze nei confronti dei greci. Da questo momento in poi la Grecia riunita nella Lega di Corinto, come abbiamo già detto, eccetto Sparta, segue ciò che lo Hegemon, il comandante in capo della Lega decide di fare e una piccola forza militare greca si aggrega, alcune migliaia di cavalieri e di soldati si aggrega alla spedizione che sta per partire in Asia Minore. Qual è la consistenza numerica di questo esercito? Beh si tratta di alcune migliaia di cavalieri e di una fanteria che possiamo calcolare fra i 30 e i 40 mila uomini e questo esercito che mette piede in Asia Minore nella primavera del 334. L'esercito macedone è una macchina militare straordinariamente efficiente. Il suo creatore è il re Filippo II che su quest'arma micidiale basa il suo progetto di conquista. La prima grande rivoluzione voluta da Filippo nella società macedone, in gran parte contadina, è la formazione di un esercito professionista. I suoi soldati non sono cittadini legati alla polis e che combattono in sua difesa, ma truppe fedeli al loro condottiero, addestrate scrupolosamente e ricompensate in denaro. La nuova milizia è formata da uno schieramento composto da 16 file di fanti protetti da un reparto di cavalleria. È la struttura in cui sono organizzati i fanti che costituisce la grande innovazione dell'armata macedone e la sua carta vincente. Filippo si ispira al celebre battaglione sacro tebano, la prima formazione capace di umiliare gli spartani in campo aperto, del quale il sovrano ha appreso i segreti tattici durante la sua permanenza a Tepe. Filippo rende la fanteria macedone particolarmente temibile, armandola con una lunga lancia di 6 metri. I fanti delle prime 6 file la tengono puntata verso il nemico, formando un muro accuminato e inaccessibile, mentre i soldati nelle retrovie la tengono alzata, pronti a sostituire i compagni delle prime file. L'esercito ideato da Filippo II sarà lo strumento vincente per le grandi conquiste del figlio Alessandro Magno e costituirà la più forte unità militare dell'antichità fino all'avvento della legione romana. Dunque siamo nella primavera del 334, Alessandro mette piede in Asia minore e subito compie un gesto di alto valore simbolico. Le fonti ci dicono che egli conficca la lancia nel suolo d'Asia appena sbarcato. Un gesto simbolico perché significa che egli si sente padrone del territorio che va a conquistare. Questo è un elemento importante su cui ritorneremo più avanti perché ha anche una ricaduta politica molto significativa. Che cosa fanno i persiani di fronte a questa forza di invasione? Decidono di affrontare subito Alessandro. Ed ecco il primo grande scontro sulle sponde del fiume Granico nella regione della Troade. Una battaglia che viene decisa sostanzialmente dal grande scontro fra le due cavallerie, quella macedone e quella persiana. La cavalleria persiana era la parte più efficiente dell'esercito persiano, la fanteria lo era molto meno, salvo quelle migliaia di mercenari greci che la Persia aveva assoldato da tempo. Ebbene la battaglia, dicevo, si decide attraverso lo scontro delle cavallerie e una grande vittoria di Alessandro. I mercenari greci vengono annientati e alcuni di loro poi vengono puniti esemplarmente come traditori della causa ellenica, mandati a lavorare nelle miniere in Macedonia. Dunque si apre la strada per Alessandro per la penetrazione in Asia minore. Alcune città importanti, capitali di satrapie come Dascili o Sardi si arrendono senza combattere ad Alessandro. E Alessandro procede verso sud, verso le città greche della costa Egea dell'Asia minore, Efeso, Mileto, Alicarnasso e le conquista tutte quante, una dopo l'altra e poi prosegue lungo la costa meridionale dell'Asia minore. Ora ci sono due problemi di carattere storico che è bene affrontare in questo contesto. Il primo problema è che cosa significa per le città greche dell'Asia minore la conquista di Alessandro? Ricordiamo che la pubblicistica greca che aveva incitato alla spedizione contro la Persia aveva indicato come una delle finalità la liberazione dei greci dal dominio persiano. Ora che sono stati liberati cosa succede ai greci? Beh è vero che Alessandro in effetti sostituisce in molte città i governi tirannici favorevoli ai persiani con dei regimi costituzionali e questo è già un vantaggio sicuramente per i greci. Ma attenzione, questo non si traduce nella autonomia e indipendenza delle poleis greche. Ricordiamoci il gesto simbolico fatto da Alessandro nel momento in cui mette piede in Asia, la lancia conficcata nel suolo e lui il padrone del territorio che era stato del re persiano ed è lui a decidere dunque le sorti delle città. Questo dominio, questo diritto diciamo al dominio, al controllo del territorio aveva un risvolto economico, il pagamento del tributo che i greci pagavano ai persiani. Ariano, uno degli storici di Alessandro dice che in realtà Alessandro esentò tutte le città greche dal tributo, ma non è vero, in alcuni casi Alessandro esenta le città greche dal tributo, ma non in tutti i casi, lo fa in ragioni di esigenze particolari. Quindi diciamo la liberazione dai persiani per le città greche significa certamente un alleggerimento della situazione, ma non si traduce in una vera indipendenza, in una vera e totale libertà. Il secondo aspetto politico molto importante è che Alessandro non sconvolge il sistema di amministrazione e di gestione del territorio dell'impero persiano man mano che la sua conquista avanza, anzi eredita pienamente il sistema delle satrapie che era stato organizzato dal grande sovrano Achemenide Dario I intorno al 500 a.C. Il sistema più adatto per un impero come quello persiano che comprendeva decine di etnie che parlavano lingue diverse, professavano religioni completamente diverse e avevano bisogno dunque di un minimo di autonomia, non poteva essere imposto un potere centralizzato. Questo era stato il segreto della forza dell'impero persiano e Alessandro capisce che non può, non deve cambiare questo aspetto, l'unica differenza è che al posto dei satrapi e dei governatori persiani o comunque di origine iranica subentra un personale greco, ma il corpo, la struttura dell'impero Achemenide viene ereditato da Alessandro e allora si comprende perfettamente come uno dei più grandi studiosi contemporanei della Persia e di Alessandro, Pierre Briand, abbia potuto definire Alessandro l'Edernier des Achemenides, l'ultimo degli Achemenidi. Nel momento del suo massimo sviluppo l'impero persiano si estende dall'India all'Asia minore, arrivando oltre l'Egitto. Per governare questo immenso territorio, il re Dario I sul finire del VI secolo a.C. crea una nuova organizzazione statale che resterà in vigore per oltre due secoli. L'impero viene suddiviso in venti province, le satrapie, dotate di autonomia amministrativa ma legate saldamente all'autorità centrale. Il loro governo è affidato al satrapo, letteralmente il protettore del regno, una sorta di vicere con ampi poteri civili. Il satrapo si occupa della giustizia, conia le monete, disciplina al culto e i commerci. Ma i suoi compiti fondamentali sono il reclutamento dei soldati per l'esercito persiano e la riscossione delle tasse destinate al governo centrale. Una tale autonomia corre il rischio di trasformarsi in aperta indipendenza, specialmente nelle zone più remote del regno. Per evitare una tale possibilità, talvolta i satrapi sono affiancati da un governatore regio, che limita sensibilmente il loro potere. Inoltre viene creata una cerchia di funzionari fidati, detti gli occhi e le orecchie del re. Il loro incarico consiste nel viaggiare attraverso l'impero per controllare l'operato dei satrapi e fare rapporto al sovrano in caso di inadempienza o tradimento. Per consolidare l'unità territoriale, viene costruita una rete di infrastrutture molto avanzata per l'epoca. Un vasto sistema di strade, stazioni di sosta e posti di guardia che permette a viaggiatori e merci di muoversi velocemente e in sicurezza da un capo all'altro dell'impero. In questo modo sono favoriti soprattutto gli scambi economici, al punto da rendere il regno persiano il maggior crocevia commerciale dell'antichità. La creazione politica di Dario I si rivela un'organizzazione particolarmente efficiente, tanto che sarà mantenuta dallo stesso Alessandro Magno una volta conquistati i domini persiani. Abbiamo lasciato Alessandro in Asia Minore, ora comincia la sua marcia verso sud, verso la costa sirofenicia e poi verso l'Egitto. Ebbene, a questo punto il gran re Dario III decide di assumere in prima persona il comando dell'esercito e il primo grande scontro fra l'esercito macedone di Alessandro e l'esercito persiano guidato da Dario III avviene nel novembre del 333 a Isso. E' una battaglia in cui la falange macedone trova inizialmente delle difficoltà perché perde la sua compattezza dovendo attraversare un fiume, però poi la battaglia viene abbastanza rapidamente decisa ancora una volta dall'impeto della cavalleria degli Eteri, dunque seconda grande vittoria di Alessandro. Dario III fugge lasciando in mano al vincitore alcuni membri della sua famiglia, la madre, la moglie, alcuni figli, oltre a vari dignitari persiani. Le fonti parlano di un'ambasceria di Dario ad Alessandro in questo momento, Dario non fa concessioni territoriali, gli offre la sua alleanza, ma naturalmente Alessandro vuole ben altro. Alcuni dei dignitari persiani si uniscono ad Alessandro, questo è un fenomeno interessante, comincia in questo momento una sorta di travaso dell'aristocrazia persiana nel campo di Alessandro, che sarà il primo passo verso una orientalizzazione della monarchia di Alessandro. Ecco dunque Alessandro procedere verso sud in Fenicia, le varie città fenice aprono a lui le porte, la stessa Tiro fa offerte di pace, ma Alessandro pretende di sacrificare al suo antenato l'eroe Eracle nel tempio fenicio di Melkart durante le feste. E questo viene visto dai Tiri come un atto, diciamo, arrogante, che preludeva la loro sottomissione. Resistono e dunque assistiamo ad uno dei grandi assedi della spedizione di Alessandro, l'assedio di Tiro, che si prolunga per sei mesi. Alla fine Tiro cave e migliaia e migliaia di Tiri vengono massacrati, pur non essendo Tiro strategicamente importante per Alessandro, ma quel rifiuto aveva comportato questa durezza di trattamento. Alessandro è libero di andare verso l'Egitto e anche in Egitto non incontra resistenza da parte dei governatori locali. Un aspetto importante è che Alessandro si mostra subito non solo deferente nei confronti dello stesso Dario e della sua famiglia, ma anche molto rispettoso degli usi, dei costumi, soprattutto religiosi, dell'Egitto, la terra in cui entra da conquistatore. Sono due gli atti che vanno ricordati di questa permanenza di Alessandro in Egitto. Il primo è che pone le basi per la nascita di quella che sarebbe stata una delle più grandi città della storia del Mediterraneo antico, Alessandria. Il secondo gesto è di carattere religioso e simbolico, ma molto importante anche in prospettiva, perché egli decide di andare a visitare l'oracolo di Ammone nell'oasi di Siva, che si trova in pieno deserto. Perché va all'oracolo di Ammone? La leggenda voleva che fosse stato visitato da eroi del mito greco come Eracle e Persia. Naturalmente questa per Alessandro è una ragione in più per andarci anche lui. Dopo un viaggio nel deserto, assistito da, come ci dicono le fonti, da prodigi divini, si mette a piovere, quindi non soffrono la sete, perché la via viene indicata in qualche modo attraverso segni sovrumani, arriva nell'osa di Siva e che cosa dice l'oracolo ad Alessandro? Noi non sappiamo, anche perché ci dicono le fonti che egli entra da solo nel Sancta Sanctorum. Ariano, che è lo storico più fidato, è molto sobrio nel dire che egli va all'oracolo e sente ciò che nel cuore voleva sentirsi dire. Che cosa ne possiamo ricavare? Beh, che la visita all'oracolo di Ammone nell'oasi di Siva si traduce in una conferma per Alessandro di una sua origine divina. Ammone era l'equivalente di Zeus. Dall'Egitto Alessandro parte con la consapevolezza di essere di origini divine, di essere figlio di Zeus, il che avrà le sue conseguenze in una fase più avanzata della sua vita. Dunque, il problema militare strategico non è deciso, perché Dario III, nonostante la sconfitta di Isso, ha ancora a disposizione un gran numero di uomini e alle spalle ha delle risorse economiche praticamente inesoribili. Allora Alessandro Rissale, giunto in Fenicia, all'altezza della costa Fenicia, si dirige a Est, attraversando il deserto, supera le Ufrate, i Tigri, nel momento stesso in cui Dario III sta preparando un grande esercito nei pressi di Babilonia. Si tratta di un grande esercito numericamente in un rapporto di 4 a 1, grosso modo rispetto alle forze di Alessandro, con una grande cavalleria, con i carri falcati che per la prima volta entrano in gioco. Ebbene, il grande scontro decisivo avviene a Gaugamela, il 30 settembre o il 1 ottobre del 331, siamo nei pressi della città irachena di Mosul, Alessandro teme di essere aggirato ai fianchi, per cui adotta una tattica molto particolare. Lo scontro viene deciso da un'azione estremamente aggressiva al centro dello schieramento persiano, una sorta di cuneo formato dalla cavalleria degli Eteri, dalla falange, che si dirige improvvisamente verso il cuore dell'esercito nemico dove si trova Dario. Dario, quando vede il pericolo, fugge. Allora questo segna la rotta dell'esercito persiano. La vittoria è completa. Il bottino immenso. Dopo Gaugamela abbiamo una successione di tappe che vanno a toccare le grandi capitali, le grandi residenze regali del re di Persia. Vicino a Gaugamela c'è Babilonia, dove Alessandro entra. Da Babilonia procede poi verso Susa e ancora più a sud, nel cuore della Persia, nel cuore del Fars, arriva poi a toccare Persepoli. A Persepoli, la grande città progettata da Dario e poi arricchita dai suoi successori, dove si svolgono tutte le principali cerimonie religiose, politiche dell'impero Achemenide, è veramente il cuore dell'impero persiano. Persepoli subisce un destino, un trattamento però molto peggiore delle città toccate in precedenza, Babilonia, Susa. Persepoli viene abbandonata al saccheggio dei soldati macedoni per diversi motivi. In primo luogo perché forse l'esercito macedone i soldati hanno bisogno di razziare, di realizzare, di avere di quei vantaggi materiali della guerra che finora erano stati, erano andati soltanto a beneficio del tesoro di Alessandro. Persepoli è anche legata, più strettamente delle altre residenze regali, all'antica storia dei repersiani, a Cerse. Dunque si riaffaccia il motivo della vendetta contro i persiani, per quello che avevano fatto ai greci durante le guerre persiane all'inizio del V secolo. e insomma Persepoli in qualche modo vive il dramma della conquista militare. Abbiamo lasciato Alessandro a Persepoli, una Persepoli saccheggiata. Un trattamento migliore viene riservato alla vicina città di Pasargade, molto legata alla memoria del fondatore della dinastia degli Achemeni di Ciro, dove si trova la tomba di Ciro, verso la quale Alessandro mostra anche, ancora una volta, una grande deferenza e un grande rispetto. Ma pochi mesi dopo ritornando a Persepoli vediamo siamo di fronte a un gesto estremamente violento deciso da Alessandro al saccheggio della città avvenuto precedentemente segue l'incendio dei palazzi di Persepoli. È probabile che egli con questo gesto voglia dare un segno forte al mondo iranico per dire Dario III è stato sconfitto ora io sono il padrone assoluto dell'impero e nello stesso tempo però lanciare un segnale ai greci dicendo che ora con l'incendio di Persepoli la guerra di rappresaglia contro la Persia si poteva dire conclusa. egli aveva assolto il compito di vendicare l'oltraggio della profanazione dei santuari greci attuata da Cerse. Il problema che si presenta ora per Alessandro è quello di inseguire il rappresentante dell'impero persiano Dario III in fuga e qui diciamo comincia una fase della spedizione di Alessandro che lo porta dal cuore della Persia verso nord verso le satrapie orientali verso i confini orientali dell'impero a Chemenide dal 330 al 327 circa prima l'inseguimento di Dario che viene tradito dai suoi più fidati collaboratori e ucciso forse diciamo la congiura contro di lui è guidata da un potente satrapo il satrapo della Battriana Besso forse per evitare di assistere all'onta di un rappresentante della dinastia Chemenide che si inchina come vassallo di fronte ad un nuovo re Alessandro continua dopo aver reso omaggio a Dario III che viene seppellito a Persepoli qui inizia una fase estremamente complessa e estremamente anche difficile della campagna di Alessandro in Oriente all'inseguimento di Besso egli si spinge fino agli estremi confini dell'impero nelle regioni a Oriente dell'altopiano iraniano fino alla Battriana e alla Sogdiana che sono le regioni corrispondenti grosso modo all'attuale Afghanistan e ai confini delle regioni del Turkmenistan e del Tajikistan quindi siamo veramente agli estremi limiti dell'impero Achemenide e in questo inseguimento di Besso che raggiunge ed elimina e poi nel tentativo di domare le rivolte che si succedono in questa area periferica dell'impero in Sogdiana Alessandro costella questi territori di una serie di fondazioni di nuove Alessandrie di nuove città e in questa regione che Alessandro fonda la maggior parte delle numerose Alessandrie da lui fondate lo scopo è quello di impiantare delle guarnigioni in un territorio che egli controlla con difficoltà alcune di queste città saranno ben presto abbandonate altre città invece diciamo continuano a vivere e in qualche modo servono assolvono la funzione storica di centri di irradiazione della lingua e della cultura greca entrando anche strettamente in contatto con le culture locali molte delle città dell'odierno Afghanistan per esempio Ghazni Herat la stessa Kabul sono eredi di questi insediamenti fondati originariamente da Alessandro in cui il tasso di grecità e di ellenismo si conserva più o meno facilmente a seconda delle circostanze insomma nel 327 tutta quest'area dopo una lunga guerra anche molto impegnativa e molto dura viene completata e Alessandro in questo momento guarda oltre all'ultima regione che era stata per un certo periodo sotto il controllo della dinastia Chemenide l'India per molti secoli nonostante la comune appartenenza all'area mediterranea l'area occidentale e quella orientale erano state divise da barriere politiche e culturali una separazione fortemente marcata dal lungo conflitto tra greci e persiani Alessandro Magno è il primo sovrano che mira al superamento di queste barriere con un progetto politico volto all'integrazione tra i due popoli nella visione del re macedone la Grecia è parte di un unico grande regno nel quale tutti i suoi abitanti hanno pari dignità per raggiungere questo obiettivo è quindi necessario favorire la convivenza tra elementi diversi evitando la mera colonizzazione delle terre conquistate Alessandro comprende innanzitutto che uno stravolgimento politico si rivelerebbe un grave errore pertanto non esporta nei territori orientali il sistema greco delle città-stato ma continua a mantenere la struttura delle satrapie persiane in queste province ai funzionari statali scelti tra le genti del luogo non ostili ad Alessandro vengono affiancati funzionari greci giunti dalla madrepatria la scomparsa delle frontiere ha come prima conseguenza un'ampia migrazione verso i territori orientali un fenomeno che Alessandro incoraggia anche attraverso la fondazione di nuove città che vengono popolate da un gran numero di cittadini greci l'incremento della popolazione greca determina alcuni cambiamenti fondamentali nell'economia locale che vive un periodo di forte crescita aumentano le richieste di beni e gli scambi commerciali vengono introdotte tecniche innovative nell'agricoltura le città diventano grandi centri finanziari e la moneta acquista un'importanza decisiva questi mutamenti frutto delle imprese e della volontà di Alessandro Magno daranno vita a nuove entità politiche gli stati ellenistici la cui vicenda si concluderà alcuni secoli più tardi quando finiranno sotto il dominio di Roma parallelamente a questa avanzata verso oriente noi assistiamo ad una progressiva orientalizzazione della figura di Alessandro come re ad esempio è in questo periodo che egli primo fra i greci o i macedoni indossa il diadema il diadema una striscia di stoffa con pietre preziose che avvolgeva la testa del re Achemenide che per i persiani era il simbolo della regalità e a questo corrisponde una orientalizzazione in tutti gli aspetti della vita quotidiana a partire dall'abbigliamento fino anche alle modalità di rapporto con i sudditi e con i compagni appartiene a questi anni anche il tentativo da parte di Alessandro di rendere obbligatorio anche per i macedoni un gesto di deferenza nei confronti del re che era stato tipico del mondo persiano alludo alla cosiddetta proscinesi cioè l'inchino che si faceva davanti al sovrano con un bacio lanciato con la punta delle dita è un gesto che per i persiani era assolutamente normale in presenza del re ma certamente era molto difficile per i greci accettare un simile cerimoniale in quanto i greci al massimo potevano arrivare a concepire di fare un gesto del genere nei confronti di un dio non di un uomo questi sono i segnali evidenti di questa progressiva orientalizzazione che naturalmente comprende anche un evento molto importante della biografia di Alessandro anche in prospettiva futura nel 327 dopo aver domato l'ultima delle grandi rivolte di queste satrapie orientali egli nel tentativo anche di integrarsi maggiormente con l'aristocrazia locale della battriana e della sogdiana prende in sposa Roxane figlia di un dignitario della sogdiana oxiarte naturalmente tutto ciò provoca dei profondi contrasti con la vecchia guardia macedone che lo circonda questo contrasto esplode in due episodi drammatici nel primo caso viene scoperta una congiura ai danni di Alessandro e in qualche modo risulta essere implicato uno dei suoi amici più cari Filota che fra l'altro è anche il comandante della cavalleria degli Eteri viene processato Filota e giustiziato l'altro episodio avviene durante un banchetto forse diciamo gli animi si accendono forse anche sotto l'effetto del vino ed ecco che Clito un altro dei più cari amici di Alessandro gli rimprovera di essersi allontanato troppo dalla sua origine macedone e gli contrappone l'esempio del padre Filippo e Alessandro in preda all'ira lo trafigge con la lancia sono due episodi che denotano chiaramente il pericolo di uno scollamento fra Alessandro e il suo entourage ma nel 327 Alessandro decide comunque di procedere oltre verso la valle dell'Indo dando inizio a una campagna costellata di un gran numero di spedizioni contro posti remoti e inaccessibili vale la pena citarne solo uno la conquista di una fortezza quasi imprendibile nell'alta valle dell'Indo la fortezza di Aorno dove la leggenda voleva che Eracle non fosse riuscito a conquistare questa città poi la spedizione continua lungo la valle dell'Indo l'episodio più importante più drammatico è la guerra che lo contrappone all'unico re indiano della regione compresa fra l'Indo e il Panjab Poro che rifiuta di riconoscere la sovranità di Alessandro ebbene nel 326 avviene l'ultima grande battaglia della spedizione di Alessandro la battaglia dell'Idaspe in cui il condottiero macedone dà prova dà l'ennesima prova della sua straordinaria abilità di condottiero secondo molti studiosi moderni e il suo capolavoro dal punto di vista militare il capolavoro di tutta la sua carriera il re Poro il cui esercito era rafforzato da 200 elefanti una novità per l'esercito macedone alla fine in qualche modo la eccezionale valentia dei cavalieri macedoni e la compattezza della falange macedona hanno ragione anche di quest'ultimo ostacolo e dopo la vittoria contro Poro Alessandro in teoria si pone anche l'ulteriore obiettivo di andare ancora verso il regno di Magada e verso il fiume Gange ma a quel punto incontra la fermissima opposizione dei soldati del suo esercito che gli fanno capire che non l'avrebbero più seguito e allora ecco che sul fiume Ifasi vengono eretti 12 enormi altari per segnare il limite orientale della conquista di Alessandro dunque una domanda che forse ci dobbiamo porre a questo punto che cosa ha spinto Alessandro così lontano addirittura nella valle dell'Indo beh si può sempre rispondere dicendo che egli è animato da questo desiderio un po' romantico di andare di oltrepassare tutti i limiti nelle terre anche nelle terre più sconosciute i greci avevano un termine per indicare questo desiderio pothos è possibile però ci sono anche delle ragioni ancora una volta politiche ideologiche la valle dell'Indo era stata l'estrema provincia orientale che aveva fatto parte dell'impero Achemenide di Dario di cui Dario poi aveva perso il controllo conquistare l'Indo significava ricreare l'impero Achemenide nel periodo del suo massimo fulgore quando Alessandro giunge a Patala alle foci dell'Indo l'esercito si divide in tre parti per fare il viaggio di ritorno verso il cuore dell'impero una parte dell'esercito di terra ripercorre la strada che Alessandro aveva percorso nel suo lungo viaggio attraverso le satrapie orientali la flotta guidata dall'ammiraglio Nearco costeggia l'inesplorata costa del Makran fino all'ingresso del Golfo Persico il grosso dell'esercito di terra viene guidato da Alessandro nell'attraversamento del deserto di Gedrosia l'odierno Baluchistan si tratta di una marcia estremamente faticosa nel corso della quale periscono molti uomini ma alla fine le tre parti dell'esercito si ricongiungono a Ormuz all'altezza dello stretto di Ormuz e poi procedono verso Babilonia siamo dunque nel 324 Alessandro ritorna a Babilonia dopo sei anni trova una situazione un po' difficile perché molti avevano approfittato della sua assenza molti satrapi e governatori avevano esteso illecitamente i loro poteri Alessandro mette sotto processo tutti costoro molti vengono giustiziati e la situazione viene ristabilita ma ci sono a questo punto due elementi di carattere politico culturale che danno il segno di quest'ultima fase della vita di Alessandro la prima è che Alessandro si è reso sempre più conto che il futuro dell'impero poteva essere garantito soltanto dalla creazione di una classe dirigente che fondesse in qualche modo l'elemento greco-macedone e l'elemento iranico a formare una nuova base sia politica che in vista del reclutamento dell'esercito il primo episodio significativo è quello noto come le nozze di Susa nella città di Susa nel 324 in una grande cerimonia decine e decine di macedoni dell'antourage di Alessandro prendono in moglie donne dell'aristocrazia iranica e nello stesso tempo vengono legalizzate tutte le unioni che i macedoni avevano già contratto con donne di origine locale e questo diciamo prelude ad una riorganizzazione dell'esercito che procede in parallelo un esercito in cui l'elemento macedone non è più preminente ma il fulcro è costituito da 30.000 soldati di origine iranica che vengono addestrati alla macedone ciò provoca del risentimento fra i rappresentanti della vecchia guardia che sfocia in una quasi di volta a OOP una località non lontano non lontano da Susa sempre nel 324 nel momento in cui Alessandro annuncia di voler congedare rimandare in macedonia i soldati ormai inabili al servizio al che segue un ammutinamento un po' paradossale un ammutinamento non di soldati che vogliono tornare nella loro patria ma che vogliono continuare lì a godere i frutti dell'impero ma in questo caso Alessandro è inflessibile i responsabili di questa rivolta vengono giustiziati e l'ordine si ricostituisce e in qualche modo Alessandro ritrova una concordia con l'esercito bene l'ultima impresa che Alessandro sta progettando all'inizio del 323 e la conquista dell'Arabia una impresa estremamente ambiziosa che ha fatto pensare a molti studiosi ad una sorta di progetto anche di come dire di respiro economico l'idea di creare una grande linea di traffici che unisse l'India all'Egitto e quindi attraverso Alessandro al Mediterraneo ma forse questo significa leggere un po' troppo nelle intenzioni di Alessandro ancora una volta possiamo comprendere i disegni di Alessandro attraverso la memoria e la storia dell'impero a Chemenide perché già Dario I nel 515 aveva compiuto questo viaggio fra dal Golfo di Suez fino al Golfo Persico percorrendo costeggiando l'Arabia e Alessandro sente di ripercorrere le Orme ancora una volta del suo grande predecessore ma proprio mentre la spedizione verso l'Arabia sta per partire il 13 giugno 323 Alessandro muore a Babilonia muore in seguito a quello che è stato probabilmente un attacco di malaria ma naturalmente già nell'antichità e poi anche fra i moderni sono molti quelli che pensano ad un avvelenamento da parte di quel nocciolo duro dell'entourage macedone di Alessandro che aveva osteggiato questa sua trasformazione in un monarca orientale la situazione che lascia Alessandro è una situazione precaria perché non fa in tempo a nominare un successore quantomeno per la regenza dell'impero in realtà l'impero come tale di Alessandro si disgrega rapidamente nelle lotte fra i viadochi nel 306 avanti Cristo a distanza in fondo di pochi anni dalla morte di Alessandro saranno in molti i viadochi che assumeranno il titolo di Basileus di re e questo è il segno che il sogno dell'impero unitario tramonta molto presto l'opera di conquista di Alessandro segna il momento di massima diffusione della civiltà greca nel mondo antico ed è il frutto della visione cosmopolita del condottiero nel sogno universalistico di Alessandro il territorio di riferimento del cittadino greco non è più quello della sua polis ma il mondo intero a questo cambio di prospettiva corrisponde l'idea di una cultura comune che unisca popoli diversi e terre lontane una cultura basata sulla tradizione greca ma influenzata dall'incontro con le civiltà orientali che fornisce nuova linfa alle arti le scienze e il pensiero è la cosiddetta cultura ellenistica la sua diffusione viene favorita soprattutto da due fattori l'adozione di una lingua comune una forma di greco semplificato e la nascita di nuove città nei territori conquistati che diventano ben presto i luoghi di irradiazione della civiltà ellenistica centri come Alessandria d'Egitto Pergamo e Antiochia saranno considerate le capitali culturali del regno soppiantando le antiche polis greche grazie a questa fusione di saperi sono in particolare le scienze a compiere decisivi passi in avanti fioriscono gli studi e le scoperte in molteplici discipline dalla matematica alla geografia all'ingegneria la cultura ellenistica sopravvive alla morte di Alessandro e anzi vivrà il suo momento migliore nei secoli successivi quando si afferma in tutto l'occidente influenzando anche la secolare civiltà romana un processo di idealizzazione della figura di Alessandro ha inizio poco dopo la sua morte ovviamente poco dopo la sua morte cominciano a circolare le storie della spedizione di Alessandro e i documenti relativi cioè tutto quel materiale che poi sarà ripreso secoli dopo dagli storici di Alessandro che noi leggiamo però c'è un processo parallelo di mitizzazione della sua figura che ha inizio nel periodo dopo la sua morte il nucleo e il cosiddetto romanzo di Alessandro è una compilazione di età ellenistica che intorno ad un nucleo di verità storica per la verità molto ridotto inserisce diversi racconti del tutto leggendari e fittizi sulla vita di Alessandro per esempio gli scambi epistolari che Alessandro avrebbe avuto con personaggi come Dario III il re indiano Poro o il filosofo Aristotele lettere che naturalmente non sono mai esistite e ha aggiunto anche delle storie come per esempio sugli ultimi giorni di Alessandro o il testamento di Alessandro dunque si tratta di un vero e proprio romanzo con un piccolo nucleo di verità storica e questa compilazione ha avuto una lunghissima fortuna nel mondo antico e fino all'età medievale e all'età si può dire alle soglie dell'età moderna c'è un processo poi di idealizzazione che è andato avanti a partire dall'antichità su quello che è stata l'opera di Alessandro qui vorrei accennare brevemente ad un'opera molto importante di Plutarco che scrisse un trattato intitolato sulla fortuna e la virtù di Alessandro in cui staccandosi forse eccessivamente dalla realtà storica Plutarco disegna la figura di un re di un filosofo in armi un conquistatore il quale però voleva realizzare un disegno ben preciso quello di diffondere la civiltà greca in un'enorme regione che non l'aveva mai conosciuto nel profondo oriente e nello stesso tempo voleva fondere unificare i popoli dell'oriente e dell'occidente in una comunità omogenea in cui fosse predominante la cultura la cultura greca come dice in un passo del suo trattato Alessandro ha avuto il merito di far sì che i figli dei battriani dei gedrosi e degli iranici leggessero Mero e potessero leggere anche le tragedie di Sofoco e di Euripide dunque un sovrano benefattore che ha allargato enormemente i confini della cultura greca e questo scritto risente molto di una certa retorica non c'è dubbio dimenticando completamente naturalmente il lato oscuro della personalità di Alessandro che è quella del conquistatore il quale pur di raggiungere i suoi obiettivi non si fermava di fronte alle battaglie più dure e ai massacri anche più ingiustificati la spedizione in India di cui abbiamo parlato brevemente è la fase della carriera di Alessandro maggiormente costellata di massacri perpetrati ai danni di tutte le comunità che egli riusciva a conquistare nella ricerca moderna questo polo del Alessandro conquistatore benefattore dell'umanità in qualche modo visionario colui che ha realizzato la fratellanza universale e convissuta con l'altro polo del feroce conquistatore però è chiaro che l'una immagine l'Alessandro benefattore e l'altra l'Alessandro feroce conquistatore sono probabilmente lontane entrambe dalla verità storica probabilmente faremmo bene a guardare alla continuità nel tempo di quel mondo che egli ha unificato sotto il suo dominio e che aveva fatto parte di uno dei più grandi imperi della storia dell'impero Achemenide forse guardando a questa continuità nel tempo di questo mondo potremmo capire meglio la portata ma anche i limiti di questa opera di ellenizzazione di diffusione della cultura greca nel mondo nell'ecumene antico che viene vista come l'eredità più importante della straordinaria parabola di alessandro